Ci sono giorni che non mi va, non fare niente mi affatica già, mi fa male il telegiornale, smetto di fumare, ma chi me lo fa fa? Ci sono giorni. Domenica il rimedio c'è, c'è una sorpresa che ne vale tre, accendi il video e spegni pure l'audio, perché a questo punto canta Claudio, canta Claudio. Oh oh, sento un vento, oh oh, rispendi il vento, salto a piedi e strillo di più. Oh oh, mi chiudo un trigo, avvanzendo un trigo, non mi voglio congelare. Ci sono giorni che non mi va, stavo in palestra due minuti fa, quasi quasi leggo un giornale che fa culturale per sapere come va, mi canta Claudio. Domenica il rimedio c'è, ma com'è bello stare insieme a te. E finalmente sono realizzato, la gente di Rax l'audio ha cantato, la pausa ha cantato. Oh oh, mi chiudo un trigo, avvanzendo un trigo, non mi voglio congelare. Oh oh, mi chiudo un trigo, avvanzendo un trigo, non mi voglio congelare. Benvenuti!